La campagna vaccinale in Veneto prosegue a ritmi sostenuti, importanti le risposte sia dei cinquantenni che dei sessantenni, ma noi siamo venuti a chiedere direttamente ai bassanesi se si sono vaccinati e come si sono trovati. Siete stati vaccinati? La prima dose sì, prossimamente a poco abbiamo la seconda dose, per me va bene. Anche io sono stata vaccinata con la prima dose e la prossima settimana abbiamo la seconda, bene, se il vaccino è l'unica strada noi siamo stati propensi al vaccino. Vaccinata? Sì certo, due volte. Quindi ha già completato anche il richiamo, è andato tutto bene? Tutto bene abbastanza, sì sì, un po' di febbre la seconda volta, ma comunque è andato bene. L'ho fatto subito appena è passato il periodo in cui si poteva andare, io sono già un settantenne, quindi l'ho fatto subito dopo il compleanno addirittura. Se ci fosse la possibilità di prenotarsi subito il vaccino anche per la vostra fascia d'età, vi vaccinereste? Sì perché comunque alla fine più che una cosa personale è una cosa più di un sentimento civico e quindi per riuscire a uscire da questa situazione tutti devono contribuire. Sì mi prenoterei perché penso che vaccinarsi tutti sia il modo più veloce per uscire da questa situazione.